Sindaco, una tragedia inaspettata, è corso subito per conoscere ovviamente le generalità della vittima e purtroppo è un giovane. Un giovane di 24 anni, un ragazzo del Senegal, è una tragedia del lavoro, un lavoratore, oggi c'è in questo momento sia il procuratore che tutte le altre forze dell'ordine stanno svolgendo i dovuti accertamenti quindi si comprenderà a breve quali sono le cause di questa tragedia rispetto alla quale ovviamente non ci sono parole. Ovviamente Sindaco è prematuro a parlare di disattenzione, di qualche errore, si attendono ovviamente ulteriori accertamenti. Sì, è ancora molto prematuro, quindi stanno facendo i dovuti rilievi con il medico legale, il dottor Sciarra presente, quindi insomma attendiamo le prossime ore e si comprenderanno le ragioni di questa tragedia rispetto alle quali oggi non possiamo che rivolgere un abbraccio alla famiglia del ragazzo e ovviamente un pensiero fino al cielo a lui.